Sono la madre e la moglie di due detenuti reclusi in fase di indagini nel carcere di massa. Manca l'acqua per poter fare la doccia nella cella dove si trovano ristretti i miei familiari e altre due persone. I guasti segnalati dai detenuti non vengono riparati. La notte, se un detenuto deve andare in bagno, è obbligato a farsi luce con un accendino. Il cibo che viene servito risulta di scarsa qualità ed è immangiabile. I viveri che vengono comprati allo spaccio interno hanno dei costi elevati. I giorni di colloquio sono due alla settimana, il giovedì con fine orario alle 15.30 e il sabato con fine orario alle 16.00. Le ore di attesa sono lunghissime, circa tre sia al mattino che al pomeriggio perché la sala dei colloqui è piccola e contiene 14 tavoli per 260 detenuti che ricevono visite. Spesso anche in questo caso le norme igieniche non sono rispettate e l'arredamento non è idoneo. Sono irrisolte le problematiche legate alle barriere architettoniche, i familiari portatori di handicap in carrozzella possono entrare nella sala adibita i permessi solo se aiutati da altri familiari. Alcuni agenti sono arroganti e non portano rispetto né ai detenuti né ai loro familiari. Recentemente è morto in carcere un uomo di 49 anni. Io stessa un anno fa avevo avuto modo di soccorrerlo, aveva avuto un malore e io ho cercato di rianimarlo. Mi rendo disponibile a testimoniare l'accaduto. Lavorando in un'azienda pubblica vi chiedo solo la riservatezza sul mio nome, ma sono disponibile a qualsiasi azione voi vogliate intraprendere.